Lotare con Dio, una metafora della preghiera. Giacove lottò per tutta la notte, senza mai lasciare la pressa del suo avversario. Alla fine viene vinto. Per una volta non è più padrone della situazione. La sua scaltressa non serve. Per una volta Giacove non ha altro da presentare a Dio che la sua fragilità e la sua impotenza, anche i suoi peccati. Ed è questo Giacove a ricevere da Dio la benedizione, con la quale entra zoppicando nella terra promessa, vulnerabile e vulnerato, ma con il cuore nuovo. Non ti chiamerai più Giacove, ma Israele. Li cambia il nome, li cambia la vita, li cambia l'atteggiamento. Tutti quanti noi abbiamo un appuntamento nella notte con Dio. Momenti oscuri, momenti dei peccati, momenti di disorientamento. Ma proprio allora, nel momento in cui io mi sento un poveraccio, non dovremmo temere, perché in quel momento Dio ci darà un nome nuovo. Ci cambierà il cuore e ci darà la benedizione riservata a chi si è lasciato cambiare da Lui.